Sai che ora è questa skin, Felina è una gratis per tutti i giocatori, non ci credete, basta andare qui su incarichi Andiamo a vedere Felina, ottenendo 50 livelli accanto sblocceremo la skin Ma appunto fare 50 livelli accanto sarebbero 50 livelli, come andiamo a farli è molto molto facile Attraverso una app che ci vuoi trattando, prima che te lo dico mi raccomando vai ora a lasciare Un bellissimo like in questo momento, quindi mi raccomando premi il tasto di like Codice creatore, coding gamer, c'è un'altra da due Ok appunto questo qua è il codice, ma manca un numero, ma prima che te lo dico mi raccomando Codice creatore, coding gamer 582 L'ultimo numero è il 4, quindi adesso cerchiamo questa qua mappa Adesso non deve essere pubblica, ma privata, perché sono in glitch, non andrò Perfetto, una volta che vi esplanate, molto facile, dove esplanate esplanate Una cosa è quella importante, dovete scendere e dovete uscire da appunto questa stanza Una volta che siete riusciti, dobbiamo andare esattamente qui avanti, fin quanto non ci ritroveremo qui Ora andiamo esattamente qui avanti, in questo punto andiamo a fare un bel letto verificato Che vi da qualche XP, quindi la mappa è corretta E andiamo a premere il tasto con il punto interrogativo Ora qui appunto ci vorranno i mille secondi, quindi ci vediamo da poco Perfetto, una volta che siamo qui andiamo a premere use pinpad Andiamo a mettere il codice che sarebbe 101 809 Premo la B e ora saremo qui Intanto come vedete ci incomincia dagli XP e noi andiamo a fare il raccoglio di jetpack Perfetto ragazzi, adesso dobbiamo andare esattamente qui dietro, quindi dobbiamo continuare a camminare verso qui Ok, una volta che siamo qui, ci giriamo verso destra e andiamo esattamente in questo punto Troveremo il tasto Secret Admin Questo tasto appunto, come state vedendo, ci incomincia a dare davvero tantissimi XP Ecco qua abbiamo già fatto il livello Perfetto, adesso dobbiamo andare esattamente qui avanti, dobbiamo salire queste scale Una volta che siamo qui andiamo qui alla nostra sinistra Ancora a sinistra Continuiamo ad andare dritto, scendiamo E una volta che saremo qui dove ci sarà questo tavolo e questo banchetto Per dire andiamo a premere quest'altro tasto Secret Admin Perfetto, adesso dobbiamo andare di nuovo qui avanti per il prossimo tasto Saliamo sempre queste scale Andiamo sempre qui al lato sinistro Ma non dobbiamo salire e andare verso quel trono che vedete qui avanti Quindi corriamo e una volta che siamo qui Dobbiamo andare a premere questo tasto con il punto interrogativo che ci darà al XP Perfetto, adesso andiamo qui alla nostra destra Quindi esattamente verso questa direzione E utilizziamo appunto il jetpack che abbiamo presso No, scendete e lo prendete Una volta che siamo qui dobbiamo entrare qui in questa porta Quindi l'apriamo Andiamo esattamente qui avanti Qui ci saranno varie tasse Esattamente in questo punto Troveremo un altro tasto che ci darà al XP Ok, adesso dobbiamo risalire di nuovo utilizzando il jetpack Dobbiamo andare esattamente qui sopra Quindi una volta che siamo qui Dobbiamo andare avanti, aprire questa porta Girare qui a sinistra Giriamo a destra Saliamo le scale Giriamo a destra Finquanto non arriveremo in questo posto Qui ci arrabbiamo Siamo il jetpack Se andiamo qui sopra E qui si dovremmo trarre un altro tasto Eccolo qua Appunto Lo premiamo E ci darà alzitanti XP Per oggi abbiamo finito Mi raccomando Codiciclatore e Codingamer Codiciclatore 2 Non ti perdere Questo video Che ora ti uscirà qui a schermo Non sto scherzando Questo video mi ha dato oltre mezzo milione Oltre 500.000 XP Visualizzo il video E se è vero Lascia like Mi raccomando Iscriviti Codiciclatore e Codingamer Codiclatore 2 Bye